I keep on falling for you Ciao Federico, benvenuto alla Def Spisa Come ti sta sembrando la giornata? Quali sono le tue aspettative? Le aspettative sono alte viste precedenti Per ora mi sembra che stia firando tutto alla perfezione La giornata è bella, c'è tantissima gente, tutti entusiasti Una gran giornata Oggi sarai uno degli speaker, di cosa parlerai durante il tuo talk? Il talk è su come ottenere il meglio dalla standard library di Go E come scrivere unit test che sono in linea con Go idiomatico Un aggettivo per descrivere la Def Spisa? Questa è difficile Intensa Grazie e in bocca al lupo per il tuo talk Ciao Marco, descrivi la Def Spisa con un aggettivo? Direi che è fondamentale per Pisa E soprattutto è un evento che accomuna interessi di più persone Ed è veramente importante aggregare Un evento che aggrega e un evento di scambio Quindi direi importante e ringrazio anche che ci sia Ciao Eugenio, Stefano e Davide Prima volta la Def Spisa? Prima volta, sì Come vi sta sembrando? Molto, molto bello Siamo stati a già altre conferenze Ma questa sembra molto interessante Soprattutto la colazione appena arrivata Quali sono le vostre aspettative per la giornata? Continuare a seguire talk interessanti Pare networking Un aggettivo per descrivere la Def Spisa? Forse entusiasmante Fiera Non mi viene in mente adesso Non lo so Tanto poi tagliano il montaggio Non mi viene in mente Va bene, niente Come ti chiami? Federica Che cosa fai nella vita? Data analyst presso Elty Reply Un aggettivo con cui descriveresti questa Def Spis? Grandiosa Un ritorno L'araba fenice Che risorge dopo una pandemia È vero Che cosa hai fatto oggi qui alla Def Spis? Mangiato Hai fatto un talk Ah sì Ho tenuto anche un talk sul Connettoma E ho anche assistito ad altri talk interessanti Che cosa hai parlato del tuo talk? Eh, ho parlato del Connettoma Delle nozioni Di tante cose Dovevi venire a vederlo Come vi chiamate? Francesco Sciuti Michela Bertaina Cosa fai nella vita? Sio di Devme Sopporto Francesco Sciuti Come mai sei qui oggi? Ho fatto un talk interessantissimo Seconda edizione sul browser C'era Francesco Sciuti Un aggettivo con cui descriveresti la Def Spis? Eccezionale veramente Riccio No, se volete la facciamo normale Ciao Leonardo, tu sei un manager del GDG Pisa Quali sono le tue aspettative per la giornata? Non ho che lamentarmi davvero A parte essere un filino stanco L'evento sta andando benone Siamo partiti in quinta Stamattina siamo riusciti a organizzarci Per smaltire una fila chilometrica Che usciva dall'edificio per entrare Per fortuna siamo riusciti a mandare Tutti dove dovevano andare Chiunque tutti sono riusciti a seguire I talk che volevano seguire E questo è davvero la cosa più importante A livello di comunicazione da parte nostra E sembrano starsi divertendo Ci sono stati i problemi dell'ultimo minuto Cambiamenti di programma Qual è il livello di stanchezza e di stress A questo punto della giornata? Questa è una domanda un po' mirata Al fatto che l'ho menzionato anche durante il keynote di apertura Il numero di speaker di oggi è variabile Abbiamo avuto Siamo stati coinvolti da due shopperi Per viaggi aerei Che con il numero di speaker che avevamo Che veniva da fuori Ha avuto un impatto Però siamo riusciti a organizzarci Abbiamo dei meravigliosi speaker locali Che ci hanno dato una mano A rimpiazzare buchi dell'ultimo momento Quindi stiamo funzionando Sono le 10 e quasi 11 in realtà Le 11 e ho già fatto una cosa tipo 12.000 passi stamattina Come ti chiami? Giuseppe Perché sei qui oggi? Per incontrare tante persone interessanti Cosa fai nella vita? Sono un sviluppatore, software engineer Appassionato Un aggettivo con cui descriveresti la Deafest? Bella Ma Diciamo In senso positivo caotica Nel senso che c'è poco tempo per Approfondire come sempre Quando incontri tante persone E vorresti fare E dare molto di più Ma non puoi per questione di tempo Come vi chiamate? Andrea Marco Perché siete qui oggi? Per la Deafest Perché è un momento per incontrare Conoscere tantissime nuove persone Soprattutto con tanto da dire Curiosità Vedere appunto le aziende che ci sono I talk Sentire talk E più o meno la stessa cosa Cosa fate nella vita? Da poco sono tornato a studiare Se tutto va bene Aprilemi al dottoro Ricercatore a CNR Un aggettivo con cui descriveresti la Deafest? Inizia da lui Interessante Esagerata Nel senso che c'è di tutto Di tutto Ed è un Un brainstorming fantastico Cioè È da stamattina che seguo seminari Workshop E C'è sempre qualcosa di nuovo da imparare Come ti chiami? Fulvio Cosa fai nella vita? Sono software engineer Perché sei qui oggi? Sono qui oggi per ritrovare tutti i volti Che magari sono abituato a leggere O a vedere su internet E su Github Sul link E dire Poi magari sono tutti nell'aere Invece qui puoi Incontrarli dal vivo E avere Interazioni Concrete Un aggettivo con cui descriveresti la Deafest? Sociale Qual è il tuo nome? Ciao Sono Francisco Ponce Perché sei qui oggi? Sto imparare nuove cose Sto imparare Poi imparare Poi imparare Poi imparare Alcune di qualcosa di nuovo Come descriveresti la Deafest? Pisa È molto buona Per il nostro network Perché C'è molti persone Che lavorano nella stessa area Quindi è molto buona Per andare a cittare Poi imparare Poi imparare Poi imparare Poi imparare Poi imparare Cosa facciate Facciate Cosa facciate Come il lavoro? Sono ingegnero software Ma in particolare Ho ricevuto Pd In computer science so I'm trying to do research in microservice architecture and security. One word to describe the DevFest. È stupenda, per essere sincero. Poi perché sono curioso e interessato di tutte queste talk, di questi temi di cui si parla. Come descriveresti la giornata? Fantastica, superlativa, incredibilmente emozionante e soprattutto piena di fuchi di informazioni. Lo rifaresti? Assolutamente sì. Ciao Thomas, prima volta alla DevFest Pisa. Ciao. Sì, prima volta alla DevFest Pisa. Prima volta per me in una conferenza in Italia. Quindi sono molto contento. È stato molto tempo fino a che abbiamo l'opportunità di avere una conferenza in presenza. Quindi sì, tante aspettative. Molto contento di essere qua. Oggi sarai uno speaker. Di cosa parlerai durante il tuo talk? Qual è l'argomento? Sì, questa volta parlerò di Firebase, come la mia maglietta. Firebase è una tecnologia di Google per costruire un back-end serverless. Questa volta parlerò di Firebase, soprattutto di Firebase Cloud Functions. È una tecnologia per poter codificare e sviluppare funzioni. E niente, spero che sia una sessione molto interessante per tutti. Come ti sta sembrando finora la giornata? Quali sono le tue aspettative per oggi? Finora la giornata è molto interessante, molto buona. C'è un sacco di gente, ci sono tanti speaker molto interessanti che parleranno di tanti temi diversi, come Flutter, Firebase Go, Android. Quindi tante aspettative. Questa volta parlerò in inglese e non in italiano, però la prossima volta vediamo. Ciao Sabrina e Paolo. Innanzitutto, come vi sta sembrando la DFS Pisa finora? È interessante. C'è tanta gente, tanti ragazzi, quindi ci sembra parecchio interessante. Anche i talk sono interessanti. Farete dei talk o avete qualcuno della vostra agenda che farà dei talk durante la giornata? Sì, io farò un talk alle due dal titolo da Swarm a Kubernetes in cui faremo vedere un tool di migrazione per migrare piattaforme e microservizi da Doc e Swarm a Kubernetes. E due nostre colleghe faranno altri due talk sulla sicurezza delle REST API e sulla best practice di progettazione per le REST API. Come TD Group, perché decidete di sponsorizzare eventi come questo? Sicuramente per farci conoscere sul territorio e poi perché siamo alla ricerca di ragazzi da inserire nell'organica e quale luogo migliore se non questo. Descrivetevi con un aggettivo la DFS Pisa. Direi assolutamente fantastico. Sì, sono d'accordo, fantastico. Ciao Serena e Matteo, prima volta per voi la DFS Pisa? Sì, prima volta. Come vi sta sembrando per ora l'evento? Sicuramente ben organizzato, ci sono tanti ragazzi, ha partecipato, si riesce a creare networking, si riesce a capire i ragazzi che si stanno laureando, che stanno facendo un percorso in informatica. Stiamo dando loro delle indicazioni su cosa le aspetta il mondo lavoro e che aziende ci sono e cosa possiamo offrire loro. Come mai Garmin decidete di sponsorizzare eventi come questo? Naturalmente perché sicuramente è un momento di networking, è un momento per promuovere il nostro brand, per fare employer branding e instaurare nuove relazioni, visto che c'è tanta partecipazione, tanti giovani e quindi perché non approfittarne? Un aggettivo per descrivere la DFS Pisa? Sicuramente direi interattivo, quindi parliamo con i ragazzi, creiamo collaborazioni, ci facciamo conoscere, facciamo in modo che i ragazzi sappiano chi c'è vicino a loro, chi c'è vicino all'università e cosa possiamo offrirgli. Giovane anche. Ciao ad Andrea, Giovanni e ad Andrea, com'è per ora la giornata, come vi sta sembrando la DFS Pisa? È una giornata molto interessante, ho incontrato vecchi amici che non mi avevo da un po' di tempo e anche i talk mi sembrano molto interessanti. A proposito di talk, qui c'è Giovanni che sarà uno degli speaker, di cosa parlerai durante il tuo talk? Allora, io ho proposto un talk su come sviluppare gli smart contract su blockchain e WM, è una cosa nuova per me e quindi non vi aspettate un talk a livelli tecnicissimi ma sarà comunque interessante per i neofiti. Andrea, quali sono le aspettative per la giornata? Allora, per me è una prima volta un evento del genere quindi sono venuto abbastanza novello ma aspetto di vedere qualche approfondimento anche tecnico interessante sia per cose per cui lavoro che comunque per cultura personale per approfondire argomenti magari che non ho a che fare tutti i giorni ma magari prendo qualche ispirazione che magari mi tornerà utile in futuro. Un aggettivo per descrivere la DFS Pisa? Bella, accattivante. Stimolante. Qual è il tuo nome? Katarina Hryzajenko È la tua prima volta in Italia a DFS Pisa? Sì, è la mia prima volta qui. Hai piaciuto la DFS? Sì, è fantastico. Qual è il tuo talk? Il mio talk era sui soluzioni composibili e spiegare il progetto. Puoi descrivere la DFS con solo una parola? Yednaioci. Significa, nella mia lingua nativa, ukrainiana. È come collegare i nostri. Come ti chiami? Davide. Che cosa fai nella vita? Nella vita studio informatica. Sono al secondo anno qui in triennale a Pisa. Che cosa stai facendo oggi alla DFS? Sono un membro dello staff e sto aiutando a gestire la maggior parte delle cose tra catering, check-in e poi ho seguito un paio di talk. Come ti sono sembrati i talk fino a ora? Allora, il primo talk era un pochino lungo, è una critica che devo fare però è stato molto interessante. Il secondo talk mi è piaciuto perché diciamo che fino a poco tempo fa io volevo fare il game developer ma ora la mia vita ha preso un altro sbocco e poi andare a lavorare in super security però mi piace vedere cose legate al game developing. Di che cosa parlavano? Uno era sul quantum computing di Alessandro Berti e l'altro era sul multiplayer in Unity. Come ti è sembrata finora l'esperienza da persona che sta lavorando dietro le quinte di questa Devfest? Allora, è faticoso, ho molto sonno però è molto divertente, mi sta piacendo e penso che lo rifarò anche, penso se l'anno prossimo si farà anche l'anno prossimo. Ultima domanda, un aggettivo con cui iscriveresti questa Devfest? Stancanti. Qual è il tuo nome? Ah, il mio nome è Alexandro Denisov. È la tua prima volta a Pisa per la Devfest? Sì, è la mia prima volta a Pisa per la Devfest, sì. Mi piaceva la Devfest? Sì, mi sono davvero impressionato. Molto grande parlare, una buona comunità. Ho sentito molte parole. Qual è la tua parola? La mia parola è la parola dell'accessibilità, e la parola dell'accessibilità e la parola dell'accessibilità. Perché Flutter è un nuovo framework che dà l'opportunità per implementare applicazioni per mobile, per web, per desktop, e tutte le quali hanno bisogno di avere un'accessibilità perché le persone con disabilità lo hanno bisogno. E, sì, ho scritto proprio come pensare sull'accessibilità e sull'accessibilità. Puoi descrivere questa giornata con solo una parola? È incredibile. Ciao Lorenzo e Gregorio. Ciao. Prima volta a Devfest Pisa? Per me in effetti sì. Gregorio, te? Seconda, prima volta nel 2019. Quasi c'è rosso, eh, però va bene. Siete entrambi i speaker di cosa parlerete oggi? Io parlerò di CI CD, una piccola panorama, e poi andiamo a approfondire le GitHub Actions. Io invece parlerò di design pattern in Kubernetes utilizzando più container nello stesso pod. Che aspettative avete per la giornata? Vabbè, di divertirmi un sacco, di fare networking, conoscere un sacco di gente meravigliosa e professionista. Anche io networking tanto e, perché no, anche il beer party alla fine dell'evento è interessante. Perfetto, me ne stavo dimenticando, vedi? Ci sono motivi molto importanti per venire a Devfest Pisa, eh ragazzi, venite. Ha un aggettivo per descrivere la Devfest Pisa? Professionale. Divertente. Come ti chiami? Nicola Corti. Come è stato organizzare questa Devfest rispetto alle precedenti? È stato fantastico, anche se la quantità di stress, come potete immaginare, ogni anno è ineguagliabile. Qual è stato il problema dell'ultimo minuto? Allora, il problema dell'ultimo minuto, in questo istante, è che abbiamo tipo la chiusura, che è tipo fra 8 minuti e la dobbiamo ancora finalizzare. Però, insomma, a parte questo, sei voli cancellati, due visti annullati... Boh, chi più ne ha più ne metta, direi. Ne vale sempre la pena? Assolutamente sì, ne vale la pena come organizzatore, ne vale la pena come speak, ne vale la pena come partecipante, per cui venite alla Devfest Pisa, perché è un'esperienza fantastica. Quando sarà la prossima? Eh, non ci esprimiamo, forse nel 2024, chi lo sa. Già, non vedi l'ora? Assolutamente. Adesso fammi riposare, però, eh. Ciao Marco e Marco, prima volta ad Devfest Pisa? Sì. Sì. Come vi è sembrata finora? Le vostre aspettative sono state rispettate? Assolutamente, anzi, avevo delle aspettative basse, perché proprio non avevo mai partecipato a qualcosa di questo tipo, quindi molto interessante. Anche io, come il mio amico, avevo delle aspettative, non dico troppo basse, però sembrava un evento organizzato molto semplice, invece aspettative totalmente inaspettate. E quindi l'aggettivo che usereste per descrivere la Devfest di quest'anno è? Fantastico. Io direi stimolante. Ciao Francesco, prima volta ad Devfest Pisa? È la mia terza volta e sono stato anche alla Beta. È sempre bello venire qua. Come vi sta sembrando finora la giornata? Che aspettative hai per oggi? So, mi piace, ho già seguito un talk. Bello anche perché poi si conosce sempre gente nuova, si incontrano aziende, sempre piacevole. Un aggettivo per descrivere la Devfest Pisa? Ma, direi stimolante. Ciao Cristina ed Elena, prima volta a Devfest Pisa? Sì. Come vi sta sembrando finora l'evento? L'evento è molto interessante, è bello ritrovarsi, per me almeno in spazi già vissuti, però appunto con altre persone, con altre organizzazioni, è bello incontrare persone del passato e persone nuove a questo evento. Voi lavorate in una delle aziende sponsor della Devfest, qual è il motivo che spinge la vostra azienda a sponsorizzare un evento di questo tipo e quali sono le vostre aspettative? Sì, io lavoro nell'ufficio People Development di Vianova, siamo sponsor, siamo platinum sponsor, quindi abbiamo un desk al piano superiore. L'obiettivo è quello di fare networking, quindi di conoscere altre aziende e soprattutto di entrare in contatto con sviluppatori che possono venire a lavorare da noi. Un aggettivo per descrivere la Devfest Pisa. Ah, uno. È network. Creativo. Qual è il tuo nome? Mi chiamo Gianni. Mi chiamo Marta. Come è stato questo Devfest? Oh, è incredibile. Mi piace molto. È stata la prima volta attendo questo in Pisa, ma erano davvero interessanti a parlare. E' stato occupato tutto il giorno, ma la città è crescita. E i parlanti sono molto preparati. Gianni, per la prima volta non organizzati la Devfest. E' stato solo un attende. Sì, questo è il mio terzo Devfest Pisa qui. Ecco, potrei vedere la storia di Pisa. E' stato parte della organizzazione per i primi due giorni. E poi non potrei organizzare perché ero fuori dalla città. E poi, dopo 5 anni, sono molto ammazzato. E ho una forte sensazione di quello che posso vedere. Vedendo la comunità crescendo, vedendo le persone collaborando con l'altro. E poi, dopo molti anni, e anche con molti problemi che abbiamo avuto, con la pandemia, e così via, potremmo vedere il spirito più forte, sentire le persone più alta, che vogliono riuscire insieme. E' stato molto, molto bello. E' stato molto forte. E' stato molto felice. E' stato proprio spiegato. Posso descrivere il Devfest Pisa con solo una parola? Beh... Credo che ero spiegato. Spiegato. O che vorrei dire, fantastico. Intento. Come vi chiamate? Federico. Simone. E' la vostra prima Devfest? Assolutamente. No. Com'è andata la giornata? Benissimo, super talk, molto interessante. Molto tranquilla, c'era gente, però è andato tutto bene. Potreste descrivere la Devfest soltanto con un aggettivo? Molto bella. Intensa. Come ti chiami? Daniele. Cosa fai nella vita? Ho un'azienda di assemblaggio. Perché sei qui oggi? Per trovare voi e per ascoltare un sacco di talk interessanti. Quindi tu hai una passione per l'informatica nonostante non sia un programmatore? Sì, e mi sono fatto anche l'università online in questi ultimi anni, sì. E mi sono lavorato a ottobre l'anno scorso. Come ti è sembrata la giornata? E' meravigliosa. Ho scoperto un sacco di cose interessanti, ho conosciuto un sacco di persone interessanti veramente. Potresti descriverla con un solo aggettivo? Una figata! Cosa è il nome? Mi sono Meravigutalia, sono da Giorgia e sono da AndroidGTE. Cosa sei qui oggi? Sono qui oggi per ottenere un mio workshop. È un'azienda di sicurezza codica e OASP. Hai piaciuto il Devfest? Si, è stato incredibile e molto inspirante. In Giorgia si chiamano che si chiamano di essere inspirante. Quindi mi sono felice di essere qui. Grazie. E' stato il tuo primo Devfest in Italia? In realtà non è stato il mio primo Devfest, ero parlato alla Devfest Venese l'anno scorso. E mi piace solo l'Italia e essere qui. Quindi spero che sarò parlato alla prossima Devfest. E' molto più grande. Cosa vi è piaciuto di più della giornata? Tanti speaker, le cinque tracce che abbiamo avuto per il primo anno in contemporanea. E poi, vabbè, il buffet è spettacolare. Le persone fantastiche che ho potuto conoscere oggi qui alla Devfest. Ne è valsa la pena? Si, e la rifarei. Decisamente si. Descrivi la giornata con un aggettivo? Impegnativa. Stancante. Un messaggio a chi monterà il video? Impegnati, Davide. Impegnati. Come vi chiamate? Giuliano. Pasquale. Perché siete qui oggi? Eh, siamo aiutanti per la Devfest. Si, concordo. Cosa avete fatto? Il caffè principalmente. Da stamattina stiamo facendo solo... Che tipo di caffè? Napoletano, ovviamente. Vedi il... Puoi intervistare anche la carta, non so se risponde però. Cosa vi aspettavate dalla Devfest? Ma, guarda, forse è proprio quello che è accaduto. Nel senso, ci stiamo divertendo tanto. Tanta gente simpatica, stiamo conoscendo molte persone. E' tutto bello, insomma, divertente. Si, molto bello. E' tutto molto bello, si. Dove può arrivare questo Napoli in Champions League? Eh, frate, siamo un po' scaramantici. Però non lo voglio dire per scaramanzia. No, ma... Io mi... Ma mo' il 18 aprile usciremo. Il Milan vincerà tutti e due. Andate in ritorno. Auguri a loro. Cosa fate nella vita? Studiamo. Si, magistrale in tram. L'informatica. Ok. Che magistrale fate? In Big Data Technologies, tutti e due. Si, anch'io. Un saluto al presidente dell'Aurentis. Presidente, la salutiamo. Presidente della Chesord. Ciao. Bye. Poi. Poi. Grazie a tutti.